Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi è il nostro appuntamento abituale con il Club del Libro, il video nel quale vi parlo appunto dell'ultima riunione che ho avuto con il mio Club del Libro, vi dico un po' quali sono stati gli argomenti di discussione e vi presento i titoli che abbiamo scelto per il mese prossimo. Di solito vi invito a partecipare alla lettura condivisa del libro scelto dal Club del Libro, ma questo mese non lo farò, perché se avete visto il video di mercoledì lo sapete, infatti ho deciso di iniziare un nuovo gruppo di lettura, leggeremo tutti insieme via col vento durante la stagione primaverile, quindi per tutti i dettagli ovviamente vi rimando al video che vi lascio anche nelle schede, però in ogni caso vi invito già da questo video a partecipare a quel GDL, perché sarebbe veramente bello condividere una lettura così particolare. Il GDL inizierà il 21 marzo, quindi avete ancora tempo per recuperare il libro se già non l'avete e ovviamente vi invito a partecipare per poterne poi parlare tutti insieme nelle tre tappe che sono state definite per la lettura del romanzo, come ho detto tutti i dettagli sono in quel video. Ma andiamo avanti con quello che è l'argomento di oggi, ovvero parlare del nostro club e delle letture che abbiamo fatto lo scorso mese e quelle che ci proponiamo di fare questo mese. In ogni caso è un'occasione non solo per parlare di libri che abbiamo letto, ma anche per suggerirvi qualche nuovo titolo che potrebbe interessarvi. Cominciamo quindi con i libri di cui abbiamo parlato, ci siamo ritrovati a casa della mia mamma, perché come vi avevo detto anche l'altra volta, purtroppo è un po' freddino nella stanza dove andiamo di solito, quindi aspettiamo che arrivi effettivamente la primavera e il caldo per poterci tornare, e quindi ci siamo visti semplicemente in casa della mia mamma tutti insieme, come sempre con un dolcetto e una buona tazza di tè. Da notare che questa volta la mamma ha utilizzato tazze di ceramica, comunque non use e getta, non bicchierini di plastica, perché ho insistito, perché alle riunioni del club del libro non venissero più usati bicchierini di plastica use e getta, ma appunto lavare qualche tazza alla fine non costa tanto, però sicuramente facciamo del bene all'ambiente, quindi soltanto tazze vere, ecco, e cucchiaini veri, niente plastica. Ma andiamo subito a vedere come è andata poi la riunione. Allora, il mese scorso dovevamo leggere dei libri che avevano come filo conduttore il fatto che da essi era stato fatto un film, tratto un film, nello specifico i libri scelti erano stati In viaggio contro mano e Nelle tue mani, se non mi ricordo male si dovrebbe intitolare, ora non ce l'ho qui con me, comunque. In realtà abbiamo iniziato con una donna, insomma, del nostro club che aveva letto un libro al di fuori, ecco, di questi due, ma dal quale comunque era stato tratto un film, ovvero La forma dell'acqua. Non so se voi l'avete visto, io ho visto il film, ma non ho letto il libro, quindi anche voi magari fatemi sapere se avete sia visto il film che hai letto il libro. Quindi io avendo visto solo il film mi sono, diciamo, basata su quello, però ecco la donna ha raccontato la trama e il fatto, insomma, che il libro le era piaciuto molto. È stato bello notare le somiglianze e le differenze tra la forma visiva, quindi il video, il film, e la forma scritta, quindi il libro, però tendenzialmente i due tendevano a combaciare. Sicuramente lei è rimasta molto favorevolmente colpita, ecco, da questa storia, e sono sincera, anche se ho visto solo il film, anche a me è piaciuto veramente tanto. Ovviamente è bello il significato che c'è dietro, oltre alla storia in sé per sé. È di una dolcezza unica, una dolcezza che è resa ancora più dolce dal contrasto con degli eventi, delle situazioni, dei caratteri piuttosto quasi macabri, cattivi, truccolenti, ed è proprio il contrasto tra questi due a rendere l'amore la cosa più dolce del mondo, almeno secondo me. Abbiamo poi parlato degli altri due libri. Allora, il primo di cui abbiamo parlato è Nelle Tue Mani, come sempre non sono sicura del titolo, però deve essere una cosa così, tanto vedete la copertina. Comunque abbiamo parlato di quello e ci siamo trovati completamente divisi. Infatti il libro era stato letto da quattro membri del club del libro, a due era piaciuto molto e a due non era piaciuto affatto. Quindi è stato bello confrontarsi su questa cosa. Allora, io ero tra quelli, perché li ho letti tutti e due questo mese, io ero tra quelli a cui non era piaciuto il libro. Lo sapete se avete visto anche il mio video delle letture del mese di febbraio, intendo. Quindi, niente, c'è stato un po' di dibattito, tra virgolette, ovviamente, senza mai arrivare a urlarci contro, però, insomma, diciamo che le due fazioni si stupivano, si chiedevano come fosse possibile l'opinione dell'altro, ecco. In realtà, alle persone a cui era piaciuto il libro hanno detto semplicemente che l'hanno trovata una bella storia, una storia scorrevole, una storia che appassionava, una storia ben scritta e che secondo loro aveva anche un bel significato. Dall'altra, io e l'altra ragazza che invece abbiamo pensato che il libro non valesse, ecco, diciamo, le nostre motivazioni sono state quelle che vi avevo anche anticipato nell'altro video. Il fatto è che questo libro è molto banale, talmente banale che è quasi inutile leggerlo. Tanto che, da una parte, ci siamo stupite che qualcuno avesse deciso di trarre un film da un libro con una storia tanto utilizzata, però allo stesso tempo abbiamo capito che è questo che piace alle persone evidentemente, quindi è qualcosa che il cinema ripropone via via perché alle persone piace. Era la storia, magari ve lo dico in due parole, di un ragazzo nato nella periferia della città, un mezzo criminale, diciamo, un teppistello, che viene però sa suonare benissimo il pianoforte perché ha l'orecchio assoluto, quindi una dote molto rara, viene adocchiato dal direttore del conservatorio di Parigi che decide di aiutarlo quando viene accusato di aver rubato all'interno di una casa, cosa realmente accaduta, e di fargli scontare la pena di lavori sociali all'interno del conservatorio, ma in realtà poi offrirà anche l'occasione di studiare pianoforte e, diciamo, di cambiare la sua vita. Ecco, questo è un po' il succo della storia. Magari fatemi sapere voi che cosa avete pensato di questo libro o di questo film, se l'avete visto e se anche a voi è parso banale oppure se l'avete trovato interessante. Non posso dire che è un libro brutto e questo l'abbiamo condiviso, è sicuramente una lettura magari da ombrellone, ecco, molto semplice. Devo dire che gli altri membri del gruppo hanno evidentemente trovato anche qualcosa di più, una profondità maggiore che purtroppo per me è stata banalizzata dalla scontatezza, non so se si può dire, della trama. Abbiamo poi parlato del libro In Viaggio Contromano, ecco, questo, su questo abbiamo parlato tanto perché è strapiaciuto a tutti coloro che l'hanno letto. Pensate che una signora non è potuta venire alla linea del club perché quella sera lavorava e ha mandato un messaggio vocale sul gruppo che abbiamo su WhatsApp, lo abbiamo poi ascoltato tutti insieme, nel quale parlava di questo libro perché ci teneva anche lei a dire la sua. In questo caso posso dire che il libro è veramente piaciuto a tutti, la storia di quest'uomo e questa donna sposati, innamoratissimi, lui con l'Alzheimer va dal fisico ancora in grado, insomma, di fare diverse cose, mentre lei gravemente malata e provata dal cancro, ma di testa completamente lucida. Due persone che insieme ne fanno una decidono di partire per un viaggio con il camper, l'ultimo viaggio probabilmente perché sono molto anziani, oltre ottantenni, lungo la Route 66 per arrivare a Disney World. Ovviamente il racconto non è soltanto la storia spiccia, ecco, del viaggio, dei problemi che hanno in quanto anziani, delle avventure che affrontano, eccetera, eccetera, ma è anche un racconto della loro storia d'amore. Che cosa li ha portati ad essere lì, come si rapportano tra di loro, cos'è che li lega e qual è il risultato, quindi, di una vita passata insieme. Quindi ci sono scene in cui vengono ricordati episodi passati, momenti in cui si guardano vecchie fotografie, momenti sempre più rari di lucidità del marito, nei quali, insomma, si capisce qual è il legame che li lega, l'affetto che li lega e così via. È una storia d'amore meravigliosa, un libro che vi straconsiglio di leggere, che ho finito con le lacrime agli occhi e come ha detto la signora per l'appunto che ha lasciato il messaggio vocale, è il racconto di una storia d'amore e di una vita imperfetta, ma bellissima. Questo è il grande messaggio che sta alla base del libro. Una vita non deve essere perfetta per essere bellissima, a volte è proprio la sua imperfezione a renderla meravigliosa. Un finale sorprendente, io ve lo consiglio caldamente, perché è veramente uno dei libri più belli che abbia mai letto e lo consiglierò sempre, anzi, mi dispiace di non averlo cartaceo, perché ce l'ha la mia mamma, ho letto il suo. Alla fine della riunione poi è arrivato il momento di parlare dei libri per il mese successivo, come sapete c'è sempre una tematica che fa da filo conduttore e in questo caso avevo scelto i libri horror. Vi dico direttamente quali sono i titoli scelti, perché questo mese abbiamo deciso di leggere tre libri, o meglio ovviamente non tutti devono leggere tre libri, però la scelta è tra tre libri e ogni lettore deciderà se leggerne uno, due, tutti e tre e così via. Però appunto alla prossima riunione parleremo di tutti e tre. Il primo che abbiamo scelto è L'incubo di Hill House di Shirley Jackson, praticamente un classico ecco di questa tematica horror, comunque di suspense, di angoscia tra virgolette, sicuramente Shirley Jackson è perfetta. Di questo libro nella trama viene detto ben poco, a parte il fatto che ci viene sottolineato il fatto che sicuramente quando noi guardiamo qualche film di paura e i personaggi entrano in questa casa magari infestata oppure una casa che ha sicuramente delle parti macabre che fanno paura, che terrorizzano, e noi ci chiediamo perché non se ne vanno da questa casa, scappano e non ci tornano più. Bene, è proprio a questa domanda che Shirley Jackson vuole rispondere nel libro perché la nostra protagonista, se non erro, dovrebbe essere una protagonista donna, in realtà vorrebbe uscire ma è la casa ad impedirglielo. Questo è tutto quello che sappiamo sulla trama di questo libro e io leggerò questo sicuramente. Il secondo titolo, e anche in questo caso sono andata un po' sul classico, per tutti e tre sono andata un po' sul classico dell'horror, e sto parlando di racconti del terrore di Edgar Allan Poe. Ovviamente questo non poteva mancare nella lista dei libri horror consigliati, quindi so che esistono anche i racconti del mistero e un'altra raccolta di racconti. Comunque ho scelto quella del terrore, ma in realtà ogni lettore è libero di leggere qualunque tipo di racconto che abbia a che fare col tema horror che sia appunto di Edgar Allan Poe. Io purtroppo non credo di fare in tempo a leggerlo, anche se sarei molto curiosa perché non ho mai letto niente di questo autore. Infine, l'ultimo libro scelto, altro maestro dell'horror, The Outsider di Stephen King. Ho sentito parlare molto bene di questo libro, è uno degli ultimi usciti, quindi ho cercato qualcosa che non fosse un classico per evitare che anche altri lettori l'avessero già letto. In questo caso invece si parla di un omicidio, un uomo che scopre il cadavere di un bambino, perché Stephen King ci tiene sempre a rimanere sul leggero, quindi cadaveri di bambini, giusto per darvi un'idea. E appunto la polizia comincia ad indagare e tutti gli indizi portano a un signore della piccola cittadina dove appunto è avvenuto l'omicidio, una cittadina dove tutti si conoscono. E questo professore, esemplare uomo, padre di famiglia, marito meraviglioso, insomma insospettabile, purtroppo è l'unico sospettato perché ci sono le impronte, c'è il DNA ovunque, insomma ci sono tantissime prove che danno per certo il fatto che sia stato lui a uccidere il bambino. Quindi arresto super clamoroso, anzi la polizia ci tiene a creare scalpore, a farlo apparire su tutti i giornali perché si è trovato il colpevole di questo omicidio così terrificante. Peccato che quel professore, esattamente quel giorno in cui è stato ucciso il bambino, si trovasse da tutt'altra parte in compagnia di altre persone, quindi con un alibi di ferro. E quindi qui ricomincia l'indagine per capire come mai tutte le prove portino alla persona che in realtà non può essere stata. Ovviamente il maestro Stephen King saprà stupirci anche all'interno di questo libro. Quindi niente, questi sono i libri scelti, voi fatemi sapere se ne avete letto qualcuno, se lo consigliate, quale è più o meno bello. Io come vi ho detto leggerò sicuramente Shirley Jackson, anzi ho già comprato il libro, quindi lo leggerò sicuramente. E basta, ragazzi, io come sempre vi ringrazio, vi do appuntamento prestissimo con un altro video e vi ricordo il GDL che inizierà a breve per leggere tutti insieme via col vento. Allora, alla prossima, ciao!